Il primo giorno da allenatore del Lecce per Antonino Asta, 43 anni, presentato questa mattina al Via del Mare dal direttore sportivo Stefano Trinchiera e dal dirigente Corrado Liguori. Queste le prime dichiarazioni del nuovo tecnico giallorosso. È stato, lo è, un onore, un orgoglio essere qua. Io anche tempo fa con qualche vostro collega c'è stato un primo approccio così e io quello che avevo detto era quello. Sarei venuto a Lecce di Corsa e quindi era il mio augurio. Sto sentendo tante belle cose da parte del direttore, da parte appunto un po' di tutti. Sembra che già io sia il migliore, il giovane è una cosa o l'altra. No, so benissimo che non è così. Non è facile ma allo stesso tempo sono le sfide, le avventure quelle belle che ti danno la forza per fare ancora meglio. So che mi avete, mi state accettando con grande curiosità, con grande stima. So benissimo che magari da parte di qualcun altro, ma questo fa parte del calcio. Magari è Lecce, un allenatore importante, un allenatore fatto serie A, serie B e tutto. Ma questo è nelle parti, è nel gioco, è normale che sia così. Però credo in una cosa, nel lavoro quotidiano, in quello che uno dà in campo, in quello che propone. Per me questa è una chance importantissima, è una vetrina fondamentale. Io Lecce la reputo, tra virgolette, già un punto d'arrivo, non è di partenza. Questa è partenza e arrivo perché è una società, è un blasone, è una piazza straordinaria. E quindi mi dedicherò me stesso. Ma in verità, come ho sempre fatto, a mia moglie io ho detto adesso avrò due mogli. Una sei tu e l'altra sarà il Lecce. Questa è una cosa che assolutamente non potrò mai tradirla. Non potrò mai tradire. Quindi il mio sarà un impegno totale nel raggiungere, non lo so quali saranno gli obiettivi, ma sicuramente è quello di fare bene. E quindi questa è una situazione... Adesso mi vedete in giacca e cravata, ma abituatevi a vedermi in pantaloncini anche strappati, perché è giusto così, si parlava prima di matrimonio, mi presento, insomma ci sta, è quello. Ma assolutamente sono da battaglia, da combattimento quello che sono sempre stato da giocatore e lo sono da anche allenatore, spero di Ersolo. Quindi questo è quanto. Il nostro obiettivo è di allestire una squadra che i tifosi e la società, la proprietà, tutti quanti devono essere orgogliosi di questi giocatori. Quindi ci sarà un po' più di tempo, ma questo non mi spaventa, non ci spaventa, perché c'è l'entusiasmo giusto. La voglia, però non basta se non c'è anche un po' di conoscenza. Io ho avuto modo in questi due giorni di avere a che fare veramente con delle persone competenti e questo mi fa piacere perché l'impegno ce lo puoi mettere, ma se non c'hai un po' di sale dove ci vuole, fai fatica. Voglio una squadra che corra, una squadra che dia l'anima, una squadra dove devo uscire veramente in qualunque caso dove il tifoso avverte che è andato tutto e questo non può prescindere da quella che è la mia mentalità, quella che è il mio modo di vedere il calcio. Se non ci saranno dei giocatori che correranno, che daranno tutto, sarò il primo anche in caso di sconfitta a andarli a bracciare tutto, perché so che è andato tutto e questo è una base assolutamente da giovane, non giovane, non perché possano essere giovani, non giovani. Il calcio è fatto soprattutto, ormai lo vediamo, negli ultimi anni in tutte le categorie di intensità, di velocità, di aggressività e questo non può mancare, ma soprattutto nella mentalità. Voglio una squadra con una mentalità vincente, una squadra che sia alta, alta intendo come concetto, una squadra che attacchi la profondità, una squadra che non sia in attesa, ma una squadra che sia propositiva. Per quanto riguarda il sistema di gioco, credo che ogni allenatore abbia una sua mentalità nel proporre quel sistema di gioco, o per conoscenza o per abitudini. È vero, quest'anno ho fatto spesso il 4-2-3-1 perché avevo quei giocatori con quelle caratteristiche. L'anno prima a Monza avevo fatto il 4-3-2-1 con due trequartisti, Gasbarroni e Vita dietro ad una punta. Ho giocato anche a tre. È logico che sarà banale, ma funziona così. Mi adeguo a quelle che saranno le caratteristiche dei giocatori per risaltare al meglio in quel sistema di gioco. Ma facendo un passo indietro mi interessano i concetti che vi dicevo prima. Indipendentemente dal sistema di gioco, voglio vedere una squadra, piacerebbe vedere, una squadra aggressiva che può giocare a tre, a quattro, a cinque, dietro o anche davanti. Quindi una squadra che cerchi di fare un pressing alto, che cerchi di proporsi, di non aspettare molto gli avversari. E questi sono concetti che indipendentemente dal sistema di gioco. Asta è reduce da due stagioni comunque esaltanti. La prima ha vissuto a Monza dove ha sfiorato la promozione in Serie C1. Stessa sorte anche a Bassano dove il salto nel campionato cadetto era cosa fatta, non fosse stato per i punti di penalizzazione restituiti al Novara, che hanno permesso alla formazione piemontese di mantenere la testa della classifica e di spuntarla sul Bassano di Asta, penalizzato dallo scontro diretto e condannato ai play-off, dove ha perso la finale contro il Como. L'allenatore in seconda sarà Frank Farina, 58 anni, Brian Solo. Farina, dopo l'esperienza al Monza, ha seguito Asta anche al Bassano. Scelto pure il nuovo team manager, che sarà Claudio Vino, già nella dirigenza leccese durante la gestione Giovanni Semeraro. Nelle prossime ore saranno sciolte le riserve sullo staff sanitario. Sembra vicino un ritorno del dottor Giuseppe Palaia, attesa anche per colui che ricoprirà il ruolo di preparatore atletico.